Forza ragazzi! Dai chiudi! Dai! Dai Siaverio! Dai Mare! Dai Siaverio! 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 Ragazzi quando noi siete in parchezza, la direzione! Quando siete in parchezza, dovete prendere la dinamica, dalla tua, dalla tua. Vado una parte allineata, se no andate in giro per il mare. Ci sono le poche di parchezza e le amiche. Ok. Qua è l'ora? Ho portato di guaccia. Non è che c'è l'uomo! Prendate quella montagna là! Prendete quello che miscita. C'è un po' di grande spazi, sai. C'è un po' di grande sti, non c'è lì. Ma non c'è due, alle le prezzie è venuta lì! Di questo parte tutto si chiudete. Questo è un po' di grande sti. Non c'è un po' di grande sti. Tada. Non c'è un po' di grande spaz e crescere. Grazie.